la tomba di romolo è stato ritrovato nel foro romano un sarcofago ipogeo in tufo risalente al sesto secolo avanti cristo che gli archeologi dicono possa essere la tomba di romolo il leggendario fondatore di roma è una scoperta archeologica di grande importanza perché potrebbe essere la conferma della storicità di un personaggio dato come leggendario qualcosa di simile a quello che fa ciò che fece heinrich schliemann quando iliade in mano usando quella come come guida di fatto scoprì troia e poi anche micene il regno di agamennon e poi la famosa maschera d'oro che tradizionalmente attribuiamo ad agamennone probabilmente non è sua ma non ci interessa la tomba di romolo però qui è qualcosa di straordinario se fosse vero perché romolo noi lo associamo alla leggenda per lo più ovvero dei sette re di roma spesso si dice che i primi due romolo e numa pompilio siano leggendari e addirittura non è il nome di roma derivare da romolo ma romulus il romanetto sembrerebbe a derivare da roma c'è un mito inventato a posteriore per giustificare questa unione di villaggi latini del lazio che avrebbe formato poi questa città forse assieme a gerusalemme la città più importante della storia umana come carico storico e simbolico ma cosa cosa dicono di solito gli storici ma roma spesso la si fa derivare da etimologie varie c'è l'etimologia di della parola greca rome che significherebbe forza che sarebbe il nome di una ragazza troiana al seguito di enea che è arrivato nel lazio si sarebbe addirittura incontrato con ulisse avrebbero fatto pace questo poi riflette la leggenda pre virgiliana di un enea traditore spia di odisseo all'interno di troia e una ragazza di nome rome avrebbe detto fermiamoci qui oppure deriverebbe dall'etrusco rumon che significherebbe fiume e sarebbe l'antico nome del tevere la mitologia latina è molto scarla molto più di quella greca anzi i romani non avevano quasi mitologia a differenza dei greci ma è anche più misteriosa c'è le origini di roma e di queste civiltà affondano in un mistero quasi insondabile che è degno del nome della regione lazio lazio in latino cosa significa nascosto ed è quasi sembra quasi un nome dato apposta però recentemente l'archeologo andrea carandini scavando sul palatino avrebbe individuato l'antichissima reggia di romolo e questo porterebbe alla storicità del personaggio la vita di romolo ha degli aspetti leggendari innegabili l'abbandono su una cesta ricorda sargon di accad ma lo stesso mosè mosè che poi una figura che riprendiamo in questo video la morte poi c'è l'allattamento da parte della lupa che diventa animale totemico di roma la morte in una tempesta stando alla leggenda non sarebbe morto quindi la tomba e questa la cosa che ritorna strana alla tomba non sarebbe morto ma durante mentre passava dopo 38 anni di regno mentre passava in rassegna all'esercito sarebbe scomparso in una tempesta e il giorno dopo apparso al senatore giulio proculo avrebbe indicato il fatto che lui non era morto ma è stato assunto tra gli dèi col nome di quirino spesso viene anche chiamato nella poesia latina quirino quiriti i romani tito olivio riprende questo riprende la storia però da delle spiegazioni razionali la famosa lupa che avrebbe allattato romolo il fratello remo sarebbe una prostituta di nome a calarenza e la moglie del pastore fausto lupa in latino vuol dire anche prostituta i lupanari erano le case di tolleranza in realtà lui non sarebbe morto ma i senatori lo avrebbero ucciso come secoli dopo con giulio cesare e poi avrebbero detto che sarebbe stato assunto tra gli dèi tra l'altro anche questo come con cesare una cometa una stella passa nel cielo di roma avrebbe fatto credere ai romani che cesare sarebbe stato assunto tra gli dèi questa è la versione razionalistica che da tito olivio quindi una tomba di romolo doveva esserci e in realtà alcuni poeti alcune tracce alcuni po sia letterarie che archeologiche di una possibile tomba di romolo ci sono molti ritengono che questi gli archeologi ritengono che questa possa essere la tomba di romola anche sulla base di un oltre la coincidenza dei materiali del tufo dell'epoca che coincide sul fatto che è un passo di varrone commento agli scolli di del sedicesimo epodo di orazio in cui si parla delle ossa di quirino orazio parla delle ossa di quirino indica cosa indica indica che la tomba di romolo sta post rostra oltre ai rostri repubblicani e coincide oltretutto il il luogo è vicino al cosiddetto lapis niger la pietra nera che non è quella della mecca però è strano questa cosa delle pietre nere sacre ci sarebbe da aprire libri da scrivere sono i bettili beta casa di dio sono le pietre venerate anche dagli arabi pre islamici la pietra nera con un'iscrizione in latino arcaico parla di una profanazione è un luogo funesto parla di una profanazione e parla di un luogo sacer in latino sacer vuol dire sacro ma anche terribile è quello che poi nei linguaggi polinesiani diventa tabù non si può toccare non si è santo dei santi del tempio di gel cadoshia cadoshim del tempio di gerusalemme che non puoi passare parla di una profanazione un luogo funesto questa iscrizione mutila che sia maledetto chi violerà questo luogo al re porterà via il bestiame c'è anche una pena re cei regi in latino arcaico il re qualcuno sostiene che lapis niger indicasse la sepoltura di romolo e che fosse stato profanato dai galli che avevano devastato roma con brenno la famosa discesa del 390 avanti cristo quella che la leggenda dice fermata da furio camillo marco furio camillo secondo fondatore nominato secondo fondatore di roma dittatore c'è qualcosa di sì è bello pensare che quella sia effettivamente la tomba di romolo di un personaggio avvolto nella leggenda sacro come ogni fondatore ho parlato di mosè tra l'altro mosè ha molte analogie con romolo la storia dell'esposizione nel fiume punto poi leggenda ripresa forse dall'idea di sarion di accad sembra quasi la stessa cosa la morte di mosè mosè ovviamente qui si parla del monoteismo ebraico quindi non può essere assunto dagli dei ma tra gli dei esiste solo un dio ma la morte sul monte nebo e vedendo la terra promessa il fondatore del popolo ebraico di fatto vedendo la terra promessa il fatto che la tomba di mosè non sia mai stata ritrovata anche qui c'è versione secondo cui mosè sarebbe stato ucciso dagli ebrei ripresa da ghetti e da froi è la tomba di romolo molti indizi molti indizi letterari archeologici possono dire di sì romolo è esistito io sono adesso siamo in un'epoca in cui si mette in dubbio anche l'esistenza storica di gesù cristo poi qualcuno mi spiega come un fenomeno spaventosamente grande come il cristianesimo si è potuto nascere io credo facendo la tara gli elementi leggendari ovviamente anche achille possa essere esistito per dire un eroe morto giovane particolarmente valoroso che ha colpito la fantasia dei poeti che troia c'è odisseo perché no il cavallo di troia probabilmente una macchina da guerra adesso dicono che potesse essere una nave per una parola fenice perché no quindi anche perché no romolo e perché magari era davvero rumon magari era davvero il ragazzo del fiume raccolto su un fiume da una prostituta che ha unito questi villaggi anche con le sabine e il cui nome è stato poi avvolto dalla leggenda la presenza di questa tomba di questa pietra nera che indica un luogo sacro inviolabile che non deve essere toccato appena la maledizione si parla del re il re sacro è possibile che ci confermi che il ragazzo del fiume non il ragazzo del fiume possa essere effettivamente esistito